Un certificato di stato civile o anagrafico ritirabile assieme al giornale o alla rivista. Tra qualche mese a Padova sarà possibile grazie alla delibera di giunta che ha approvato l'introduzione di due importanti novità per le edicole della città. Le edicole, sia pubbliche che private, infatti diventeranno punto di rilascio di documenti comunali, ovvero certificati anagrafici e di stato civile. Praticamente si utilizzerà la stessa piattaforma dalla quale il cittadino singolarmente può scaricare e stampare il proprio certificato con piena validità e questa stessa piattaforma verrà utilizzata dagli edicolanti e darà la possibilità ai cittadini di ricevere i loro certificati. Dal 24 marzo 2021 il Comune di Padova infatti ha attivato il servizio di richiesta online di certificati di anagrafe e di stato civile attraverso un portale dedicato che consente al cittadino di scaricare da casa sul proprio pc il documento. Oltre ai certificati comunali per le edicole ci sarà la possibilità anche di aumentare fino al 40% della superficie di vendita a prodotti non editoriali. Abbiamo messo a punto un vero e proprio piano per la salvaguardia e rilancio delle edicole della città. Lo facciamo ampliando per quanto riguarda i chioschi sul suolo pubblico la possibilità di vendita di prodotti anche alternativi rispetto a giornali e riviste. Quindi prodotti per turisti, bottigliette, tutti i prodotti di piccolo ingombro che possono essere messi a disposizione dell'utenza. Questa novità interessa invece tutte le edicole sul suolo pubblico le quali ad oggi hanno un limite fissato al 20%. Si tratta dunque di 44 edicole su 117. A breve sarà siglato il protocollo e si partirà con queste due iniziative. Avanziamo in quel progetto della città dei 15 minuti che già il piano del sindaco ha indicato. Cioè della possibilità per tutti i cittadini e le cittadine di trovare i servizi molto vicini a casa grazie alla capillarità delle edicole.